Oggi il Montefalco e Spoleto Grand Tour ci porta nei pressi del borgo che dà il nome alla denominazione, ovvero Montefalco. Siamo veramente molto vicini alle mura della città e andiamo a visitare una cantina che si chiama Colle Ciocco e appartiene all'agricola Spacchetti. Wow! Questo è Colle Ciocco che dà anche nome al vostro progetto ma è anche il nome del luogo. Sì, è il toponimo di questa collina che per Ciocco allora si intendeva la radice dell'olivo perché questa era una collina ammantata di olivi. Lo è ancora, tuttora. Infatti venendoci a questo viale pazzesco di olivi voi avete tante piante d'olivo. Circa 3.000 piante. Bene, bene. Quindi avete cominciato prima con l'olio o prima? Beh no, con la mia famiglia abbiamo iniziato fin dal 1870 sia con l'olio che con il vino. Io ho visto che lì c'è una scala che secondo me ci porta... Sì, perché la scala porta su un terrazzo antecedente alla soffitta dove mettiamo ad appassire le uve per fare il segretino. Si può salire? Come no, certo. Ah, che meraviglia. Ci sarà un panorama. È così comoda che io approfitto. Buonissima. Non mi sbagliavo. Panorama mozzafiato. Montefalco. Montefalco. Ah beh, insomma, siamo veramente a un tiro di schioppo. Le vigne? Le vigne, allora, le vigne sono in parte a 500 metri a Pietrauta, dove c'è il Sagrantino, a Casale, e anche lì c'è sia il Sagrantino che il Montefalco e il Sangiovese, il Merlot per il Montefalco Rosso, e poi ci abbiamo un altro di tre ettari a Cortignano che è di Sagrantino due ettari e un ettaro di Montefalco Rosso. Sono state acquisizioni o erano proprietà? No, di famiglia. È stato fortunato. Io vengo da altre attività, ho fatto ufficiale di marina per 40 anni e poi ho cambiato vita dall'acqua al vino. Ecco, seguendo le tradizioni di mio padre. Che tesoro, che meraviglia! Ti permette? Come no, certo. E' un assaggio, perché questa è un fruttaio. Sì. Viene messa l'uva di Sagrantino ad appassire per fare quello che è l'emblema della tradizione, il Sagrantino passito. Il Sagrantino passito che ha mille anni di storia. Il primo documento che tratta di Sagrantino passito è datato a 1088. Che meraviglia! E' custodito presso l'archivio di Stato di Spoleto e tratta di un passaggio di proprietà di una vigna a Sagrantino fra una parrocchia e un'altra. Me lo ricordo. Voi ovviamente volete mantenere la tradizione, quindi il passito... Passito non guadagna, ma si fa. Quando si beve il passito? C'è sempre un momento giusto per berlo. Io lo preferisco con i formaggi, con un buon pecorino stagionato oppure con un gorgonzola piccante. Ciononostante, anche quando è tempo di castagne si può abbinare benissimo a delle caldarroste oppure biscotti mandorlati non troppo dolci da forno come cantucci e dolci. E' una tradizione meravigliosa che è veramente così radicata... E' il cioccolato fondente, poi ci sta benissimo. Come no, che è raro trovare un vino che sta bene col cioccolato. Andiamo giù in cantina. Senz'altro. Quanti sono grandi queste botti? Sono 25 toletri, sono botti di legno francese e fatti in Austria. Vi piace il legno grande? Sì, bello, bellissimo. Noi infatti cerchiamo di evitare al massimo le baricche. Magari mettiamo un po' di vino subito, no, ma non sulle baricche. Ecco, qual è la vostra idea di vino? Che vini volete fare? Noi vogliamo fare i vini tipici, locali, della tradizione, senza che il legno sovrasti il sapore dell'uva. Vogliamo dare l'autenticità del Sagrantino che si produce da secoli. Quanto resta in queste botti? Allora, il Montefacco Rosso ci rimane per un anno e il Sagrantino invece resta due anni. Due anni in volta? Sì, da 18 a 24 mesi. Dipende dall'annata. 24 mesi dei 36 totali che per legge deve fare. Ma voi so. Per legge, ma noi non vendiamo il Sagrantino prima di cinque anni. Cinque anni, quindi veramente tanto. Il vetro è veramente importante. Il tempo è veramente importante per il Sagrantino. Il tempo della vigna, il tempo della maturazione in legno e anche il tempo della maturazione nella bottiglia. E poi, perché no? Anche quando qualcuno la compra, se lo tiene ancora un po', non fa male, perché il Sagrantino è un grande vino da invecchiamento. Io ritengo che il Sagrantino, il top lo raggiunge dopo 9-10 anni, fra botte di legno e bottiglia. Mi ha molto incuriosito. Assaggiamo il vino? Me lo fa assaggiare. Fantastico. Allora, però prima di assaggiare il vino, perché insomma il vino si assaggia con grande onestà, mi deve giurare che la sua famiglia è tra i produttori storici di Montefaco e non come dicono tutti che hanno gli avi, gli antenati e poi hanno cominciato da due giorni. Allora, per dimostrare che una cantina è storica, deve avere dei documenti. Eh sì, eh! Questa è una rivista della Proloco del 1931 e fra i produttori di vino c'è la famiglia Spacchetti, Fratelli Spacchetti, ed è allora le cantine menzionate come produttori di vino erano 5. 5 cantine e una... 5 cantina, fra cui Fratelli Spacchetti. Beh, mi fido, possiamo assaggiare il vino perché davanti a una testimonianza come questa. Beh, questa è una testimonianza scritta, non è che me le sono inventate. Sì. Il Sacrantino secco, collecciocco, sa di vino. No, nel senso, sa di vino buono, sa di vino, sa di cantina, sa di terra, di Montefalco, oltre a questi frutti rossi, tritati, molto belli, ma non è un vino eccessivo, è un vino che ha una grandissima eleganza, è anche in bocca e setoso. Come fate? Come fate a fare un vino così setoso, così elegante? Non è mai rumido. Dunque, noi cerchiamo di vendemmiare sempre il più tardi possibile, perché vogliamo che i tannini maturino anche in vigna, oltre che nella botte e nella bottiglia. per cui la vendemmia la facciamo sempre durante la terza decada di ottobre. È capitato a volte anche di vendemmiare i primi di novembre, come il 2014. Ah, ecco. Sì. E poi il fatto di tenere il Sagrantino per cinque anni, questo ci aiuta, perché il vino si armonizza, diventa più rotondo, esprime profumi più eleganti. Io ritengo che il Sagrantino non si debba vendere prima di cinque anni. E questo è un vino di grandissima eleganza, di grandissima finezza, di grandissima eleganza, che non teme di stare in una tavola importante del mondo e di sfidare i grandi vini del mondo. E poi c'è il passito, chiaramente è un vino opulento, dolce, bello. Mi vengono in mente tutti i piatti gustosi e le cose con cui lei ci ha detto che lo abbinerebbe e devo dire che sono perfette. Allora, un piatto invece per il secco. Il secco io l'ho prima di tutto con la cacciagione, uno spezzatino di cinghiale, uno spezzatino di cinghiale oppure l'agnello scottadito che lascia un po' la bocca grassa e i tannini del Sagrantino puliscono bene. Poi anche tutto quello che con il tartufo, sia esso bianco che nero, ci sta bene. Anche una pasta asciutta al tartufo. Tante cose buone dell'Umbria, tante cose buone delle terre di Montefalco e una delle cose buone delle terre di Montefalco è questo vino meraviglioso che è anche raro e anche originale e unico. Quindi con questa unicità brilliamo. Grazie per aver aperto le porte della sua cantina. È stato un piacere. Una vista bellissima. È stato un piacere. Cing, cing. Salute. Grazie a tutti.